come ti chiami? ciao io sono Ekaterina Cialepova da dove vieni? io vengo da sono nata in russia però sono canadese perché è cresciuta in canada però vengo da milano ho scelto Italia perché come lirica è nata qua non c'è niente migliore di stare dove sono cresciuti verdi, pellini, puccini io ho avuto dieci anni quando ho cominciato a cantare lirica quindi è molto presto sono stata sempre un po' di ribelle quando mia insegnante mi diceva no non possiamo cantare questa canzone allora facevo a casa da sola perché se qualcuno mi dice non puoi farlo io devo farlo per forza fino a che non riesco a farlo fantastico immagino che canterai stasera io canterò però non una canzone io canterò la mia voce ok palco tuo vai break a legge grazie grazie canterà la famosa di buon boon ciao grazie a tutti 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 Wow, wow, wow Quetzalina Ma un paio di domande, sono super curioso Tu ovviamente anche canti, no? Sì Canti cosa? Lirica, opera? Io canto tutto, però sono cantante lirica, sì, canto lirico E seconda domanda, hai mai usato questa capacità in una maniera professionale Tipo fare film tracking, quella cosa lì? Ancora no Dovresti farlo, perché sei molto molto brava Mi è piaciuto tanto Sì, anche io l'ho trovata una performance molto molto evocativa Cioè a ognuno secondo me hai fatto pensare qualcosa L'hai fatto rilassare o l'hai fatto viaggiare con la mente Tipo se mai deciderò di farmi di peyote ti vorrei lì con me Che mi canti questa roba sotto Va bene Grazie Mara? No, sono rimasta veramente colpita Senti, ma tu usi benissimo la tua gola Veramente in maniera pazzesca Io canto da quando avevo tre anni Wow Quindi da bambina Proprio ho cominciato a cantare prima di parlare È una questione naturale Cioè non è... Puoi studiare tanto per migliorare Ma per diventare così devi essere nato Così Bello Grazie Beh, secondo me c'è pochissimo da dire Sei un talento pazzesco Quindi hai scelto veramente il palco migliore Quello di Italia's Got Talent Brava Grazie Per me sì Grazie Grazie E Caterina Anche per me è un sì Grazie Anche per me è un sì Grazie Allora Almeno per me Io sto cercando vero talento Cerco sempre di capire cos'è un talento E tu e Caterina sei sicuramente un talento Bravissima per me è un sì E allora sono quattro sì Grazie mille Grazie Caterina Grazie Io non lo so fare Ma che roba è Caterina Che roba Mi sono catapultata in 5 o 6 film epici E il gladiatore Game of Thrones Era questa l'idea Bellissimo Tu devi fare questo nella vita Pazzesco Grazie Comunque si potrebbe giocarlo un po' con costume No? Arrivare con cappuccio Perché è bellissima Perché non le hai dato i gold A presto